Salve a tutti, mi sono candidato nella lista di Renato Tampieri per portare un cambiamento in questo paese, diciamo, in questo comune. Volevo presentare il progetto, un progetto innovativo che parte dall'Università di Bologna, già testato in tanti altri comuni, abbiamo seguiti 50 della Regione Emilia Romagna, che si occupa del Search and Go per installare una colonia di ricarica gratuita tramite fondi collettivi dei negozianti. Questo qui è un progetto che rientra nel brand che l'ho chiamato, diciamo, Solarolo SolarCity, per creare una SolarCity, cioè una città solare a Solarolo. Funziona da una raccolta collettiva di esercizi, ogni esercizi ci mette 50 euro, a fronte di quali vengono date dei biglietti della rotteria, e poi ci sarà un'estrazione a premi con autoelettrica, non leggo da autoelettrica per una settimana, motore elettrico, bicilettrica e così via. Poi nella colonina verranno messi i brand e i vari esercizi che hanno contribuito a questo, quindi questo per dare visibilità al territorio, cioè un autobolista elettrico che si trova nelle vicinanze, chiaro viene a Solarolo, spende, magari si prende un caffè, va a fare un giro, quindi crea visibilità e dar vita al territorio. E accanto a questo si può anche inserire un percorso che di fianco alla colonina va ad esempio a un agriturismo che è già presente a Solarolo, che ha fatto tanto nel solare, no? Cioè nel mondo solare intendo cappotto, riqualificazione, eolico, insomma. E fai un percorso guidato, dopo quindi l'automobilista si ferma a ricaricare, a vedere, magari si ferma a dormire là, questo agriturismo potrebbe anche essere dotato di wallbox, insomma tutto viene anche gestito tramite un'app che noi abbiamo come spin-off in cui sono indicati i vari agriturismi con i vari servizi per il proprio automobilista elettrico. Questo è per sensibilizzare diciamo i titeladini nel fare, come sta facendo ad esempio anche la Basso Romagna all'interno di un progetto chiamato Futuro Green, che premia i cittadini virtuosi, perché molti solarolesi, ho sentito anche dire, sia industriali, loro hanno fatto, tipo fotovoltaico su edifici pubblici, anche a potto coibientato, poi non gli è stato riconosciuto niente, cioè quindi anche una setta di mano, oppure una targhetta fuori casa, con un scritto, non so, sei passato in classe A, hai ridotto le emissioni di questa quantità, per stimolare magari gli altri vicino di casa a dire ah beh se l'ha fatto lui allora dai, quasi quasi lo faccio anch'io, quindi educhi la popolazione al cambiamento e nello stesso tempo anche l'associazione culturale che si occupa di organizzare maratone, biciclettate, rientra tutto nella mobilità sostenibile, quindi noi comprendiamo in questa anche magari visite a fattorie didattiche, vorrevo creare anche una nuova biblioteca in cui dopo all'interno poteva diventare tipo un centro studi, sulla Solar City, quando si organizzano convegni, si chiamano esperti del settore, può parlare anche l'Università di Bologna, lo spin-off universitario e possono anche rispondere a domande come per dire adesso c'è il mercato libro, uno non sa chi sceglie il fornitore di gas e energia elettrica, comparano anche le offerte e ti indicano la soluzione migliore, perché poi noi non siamo portatori di interesse, siamo solo un gruppo di ricerca, quindi per noi è chiaro indirizzarti alla scelta migliore, poi accanto a questo dopo è chiaro nello spin-off, poi avrà i servizi, poi chi vuole fare il check-up della casa per sapere come consuma, insomma c'è tutto di più, poi dopo noi più che altro vogliamo sensibilizzare ed educare le persone sul cosa fare per il cambiamento energetico, quindi ci vuole una collettività coesa verso questa cosa, ad esempio anche la didattica nelle scuole è molto importante, perché dietro a questa c'è un progetto che è partito con l'Unione Bassa Romagna e è andata a finire in Europa, con vari stati d'Europa, che si chiama Energy Head School, quindi vorremmo anche portare questo progetto nella didattica delle scuole, collaboratori didattici che fanno capire veramente come risolvere questo tipo di problema. Quindi se insomma vi piace l'iniziativa, io ho un po' parlato con il paese, mi sembra che gli esercenti siano tutti d'accordo verso il cambiamento, venite a votare, date il vostro contributo come in termini di scelta giusta e sicuramente noi non vi abbiandoniamo, vi seguiamo nel vostro cammino e quindi vi aspettiamo alla votazione. Vi saluto, ciao!